Devo dirvi la verità, pensavo di utilizzare decisamente meno questo canale YouTube e invece mi rendo conto che ci sono tante cose che mi fa piacere dire e sottolineare anche oltre al canale principale e dato che il momento della Juve è tutt'altro che positivo, meglio parlare un pochettino di cose un po' più tranquille, rilassanti e che ci fanno sempre divertire. Tra l'altro vi dico subito che la prossima settimana registrerò un video, il primo video in collaborazione con un altro utente, un altro YouTuber molto molto conosciuto e quindi state qua che poi prima o poi arriviamo. E come vi dicevo ieri nella tier list dei Pokémon di prima generazione, che è andata anche comunque discretamente bene per il mio canale, quindi vi ringrazio, non volevo dedicare completamente il canale a Pokémon e quindi oggi sono qui per parlarvi di One Piece, per un motivo, per un motivo. Ieri sera mi sono ascoltato il video del Re, quello in cui parla del perché Shanks e Buggy dovrebbero arrivare a Laftail e mi è venuta la volontà di scrivere un commento che poi secondo me si poteva tramutare bene in una chiacchierata, non so quanto lunga, insieme a voi. Perché vi dico subito, quello che sto per dirvi secondo me è una fregnaccia, una cazzata di dimensioni colossali veramente immensa. Però avendo letto l'ultimo capitolo di One Piece uscito e non avendo letto gli spoiler, perché solitamente cerco sempre di non leggerli per leggermi direttamente il capitolo, poi se mi ci imbatto, amen, non succede niente. È capitato anche in passato di leggere i spoiler, quindi non succede niente. Però io non so cosa accadrà nel prossimo capitolo, immagino che si andrà avanti con il discorso di Sabo ai rivoluzionari per parlare di quello che ha visto Amarijuwa, quindi il trono vuoto, Insama. Immagino che si andrà in quella direzione lì e non si andrà a proseguire con Buggy. Ma io mi immagino che ormai quello che doveva farci vedere Oda di Buggy ce l'ha fatto vedere e che adesso si cambierà un pochettino scena. Però, ripeto, è una fregnaccia, ma mi sembra che si stia organizzando un po' il tutto per andare in quella direzione, per creare una sorta di finale. Perché l'ultimo capitolo in cui Buggy dice determinate cose che non gli aveva mai visto dire in tutto il manga, beh, ti porta a pensare che Oda voglia responsabilizzare di brutto la figura del pagliaccio. D'accordo, è imperatore, già questo dovrebbe essere qualcosa di allucinante. Ma Buggy era diventato anche un flottaro, sempre per caso, proprio per via di un insieme di incastri specifici che l'hanno portato ad acquisire un ruolo politico. Io sono davvero invece convinto, oltre al fatto che Buggy diventerà il re dei pirati, perché è diventato flottaro per caso, è diventato imperatore per caso, e per caso diventerà re dei pirati al termine della storia, perché il manga ci dice questo, e cioè che Buggy arriva a scalare i vertici, arriva a scalare le posizioni, e la posizione più grande è quella lì, re dei pirati. E Buggy ci ha detto di voler diventare re dei pirati, quindi sono convinto che Oda sia un idiota a tal punto da far finire uno shonen manga, cioè il manga in cui il protagonista arriva a realizzare il suo sogno, con Ruvik che non realizza il suo sogno di diventare re dei pirati, anche perché, aperte parentesi, l'ha cambiato in corso d'opera il suo sogno, noi non sappiamo qual è, e ci arriviamo, e invece Buggy ha confermato il loro diventare. Io sono certo al 100% che il manga si concluderà con Buggy, re dei pirati. Però a questo punto mi viene a pensare a Shanks, perché comunque Buggy parla di Shanks, c'è un mini flashback, ci fanno capire determinate cose, e quel flashback si posiziona subito dopo le parole di Roger a Shanks, di quel pianto di Shanks. Allora, vuoi vedere che è tutto collegato? Vuoi vedere che Roger ha spiegato tutto a Shanks prima di farlo piangere? Ma non è stato il tutto, i segreti del mondo, tutto quello che hanno visto su Love Tale, Joy Boy e tutte queste cose qui, a far piangere Shanks. Bensì un'altra cosa. Perché la profezia di Joy Boy ci ha dimostrato che si può prevedere il futuro in One Piece. Tra 25 anni, 20 anni, quelli che sono, arriverà un uomo, Joy Boy, in grado di fare queste cose qui a Wano. Oden stesso muore con la consapevolezza che succederà questa cosa. Quindi il futuro si può prevedere in One Piece. Lo sappiamo. Da quando sono stati introdotti i viaggi del tempo. E allora forse Roger sapeva anche qualcosina in più sul futuro. E magari queste cose sono state rivelate proprio a Shanks. Shanks, perché non va a prendere il One Piece, subito dopo la morte di Roger? Che è il motivo che fa arrabbiare Buggy? Questa è la domanda da farsi. Perché non lo fa? Non lo fa per un motivo, no? Qual è il motivo? Probabilmente Roger gli ha detto che non era quello il momento. Perché sapeva Roger quale sarebbe stato poi il momento. Magari gliel'ha pure detto, gli ha dato un'indicazione temporale o semplicemente gli ha dato un avvenimento. E quando Shanks legge sul giornale di Rufy che batte Kaido, a Wano dice andiamo a prenderci il One Piece. Quindi quello è il momento giusto. Shanks ha aspettato tutto questo tempo, tutti questi anni, sapendo delle cose che noi lettori abbiamo compreso con il tempo e i Rod Pony e Griff e tutte queste cose. Quello lì è il momento in cui invece Shanks si rende conto di dover andare a Laugh Tale. O comunque andare a prendere il One Piece. Prima no. Perché? Perché sapeva qualcosa. Perché sapeva qualcosa. E quindi va a finire, scusate se ogni tanto guardo io qua, ma ho appunto il commento che ho scritto al re. Non spiegherebbe però il motivo per cui Buggy sia rimasto senza spiegazioni. Cioè Shanks che semplicemente dice no, non è il momento ora di andare a prendere il One Piece, ho cambiato idea, non lo voglio fare. Tra i due c'era un rapporto molto forte, no? E quindi magari il Rosso ha voluto giocare su questo aspetto del carattere di Buggy, sapendo che una frase del genere avrebbe fatto arrabbiare. Sapendo quello che Buggy pensava del Rosso di Roger insieme, e cioè che il Rosso avrebbe poi seguito le orme di Roger e sarebbe diventato lui il re dei pirati. Allora, vuoi vedere che il pianto, il pianto di Shanks nasce da una profezia che gli fa Roger nei confronti proprio di Buggy? Dicendogli che comunque a Laugh Tale Buggy sarebbe morto e quindi non era il momento giusto di andare a Laugh Tale, perché Buggy sarebbe morto a Laugh Tale. Il momento giusto per andarci è un altro. E vuoi vedere che è stata una sorta di protezione nei confronti dell'amico allontanarlo, perché Buggy ce l'ha proprio fatto capire, sarebbe stato volentierissimo il braccio destro di Shanks. Avrebbe messo completamente a disposizione il suo io, il suo essere per Shanks, perché aveva un grande rispetto nei confronti di Shanks. Rispetto che viene annullato da questa decisione del Rosso. Ma ripeto, magari il Rosso stesso ha sofferto per non poter fare questa cosa, proprio perché sta seguendo una sorta di consiglio che vede come un ordine del suo ex capitano. E allora, e allora, magari, perché secondo me si arriverà a un punto in cui sull'isola del tesoro ci saranno tutti e quattro gli imperatori. Secondo me su Laugh Tale tutti e quattro gli imperatori si ritroveranno. Anche perché la corsa al One Piece è iniziata, Rufy vuole il One Piece, Shanks ha detto di andarsi a prendere il One Piece, Buggy ha dichiarato di prendere il One Piece prima di quegli altri. E Barba Nera non ha ancora decretato niente, ma si arriverà a un punto in cui sarà necessario. Quindi, secondo me, si arriverà tutti insieme, o comunque Shanks, Rufy e Buggy tutti e tre insieme, su Laugh Tale per prendere il tesoro. E magari sarà proprio qui che il Rosso, sapendo come sarebbe dovuto morire Buggy, si sacrificherà per salvarlo. Proprio in riferimento a quello che gli ha raccontato Roger. Perché, vi dico, non ha molto senso. Non ha per niente senso. Però tutte le informazioni che ci stanno mettendo nel manga ultimamente mi fanno pensare che si stia preparando appunto una situazione di patto screscente in cui succederà qualcosa. E se devo dirvi la verità, oggi il personaggio del Rosso e oggi il personaggio di Buggy sono in completa antitesi. Perché il Rosso mi sembra semplicemente un morto che cammina con un timer sulla fronte e bisogna solo trovare il momento giusto per toglierlo di mezzo. E qua l'occasione migliore, se non appunto una situazione di patto screscente dove si va a creare una sorta di legame ancora più approfondito tra questi due personaggi. Dove si va a spingere al 100% nei confronti dell'amicizia e del legame che avevano loro due. Shanks a questo punto, non dico che sia inutile per la trama, ma quasi. L'unica utilità, secondo me, che ha Shanks in questo momento nella trama è appunto spiegarci che cosa gli ha detto Roger. È l'ultima cosa che secondo me serve. Oltre ovviamente a ritrovare ruffiche però è ininfluente ai fini della trama. Sì, è bello rivederli insieme. Sì, il discorso del cappello. Sì, va benissimo. Ma queste cose servono? No. E sicuramente Roger gli ha parlato di Joy Boy. Sicuramente Roger gli ha detto di affidare il cappello di paglia a un simbolo della nuova pirateria scommettendo su qualcuno. e Shanks ha scommesso su Ruffy. Ma il cappello ormai è un simbolo. E basta. Cioè, l'unica cosa per cui Shanks deve rimanere oggi in vita è appunto il discorso che lega il flashback con Roger. Buggy no. Buggy è più importante. Quindi vi sorprenderebbe Shanks che si sacrifica per Buggy con Buggy che capisce perché in precedenza non è andato su Laftail e che quindi va un attimino anche a mettere da parte i sentimenti che ha accumulato in questi anni. A me sinceramente no. A me sinceramente no. Perché oggi considero molto più importante il personaggio di Buggy rispetto a quello di Shanks. Ed è incredibile da dire, ma Oda ci sta apparecchiando la tavola eh. Ci ha messo le posate in questa direzione. Anche perché, intendiamoci, Ruffy molto probabilmente sta inseguendo il sogno di Roger. Ha la stessa volontà di Roger ereditata no? Molto probabilmente è così. Sì, e quindi se proprio vogliamo oggi Buggy è una sorta di sottoposto di Ruffy o comunque un grande alleato perché nel momento in cui poi Buggy verrà a conoscenza di questo discorso di Shanks con Roger e questa volontà di realizzare la volontà di Roger Buggy dovrà semplicemente cercare di assecondare Ruffy e condurlo a realizzare il suo sogno. E vedrete che arriverà a un punto si arriverà a un punto veramente nella trama finale di One Piece dove Buggy aiuterà Ruffy a realizzare il sogno che non è più diventare re dei pirati. Quella è una volontà ma non è un sogno. E Buggy diventerà re dei pirati mentre aiuterà Ruffy a realizzare il sogno che è lo stesso sogno di Roger. Ed è per questo che vi dico Buggy, personaggio importantissimo in questo momento Shanks morto che cammina. che servirà soltanto ad avvicinare secondo me Ruffy e Buggy nella battaglia finale che sarà l'incastro finale della trama. Ripeto, non ha senso perché non ha senso che Roger vada a spiegare a Shanks che non si deve andare sullo hotel in quel momento che Buggy morirà o robe del genere. Però si va in quella direzione lì di quell'idea lì e cioè di un rosso che arriverà ad essere soltanto una pedina nel disegno finale e il disegno finale sarà per forza di cose qualcosa che andrà a legare Ruffy e Buggy o almeno per forza di cose. Questa è la mia umilissima opinione e voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se siete d'accordo cercate di non spoilerare sul prossimo capitolo però io mi aspetto un finale di questo tipo. Sarebbe anche molto molto divertente perché Buggy è uno dei miei personaggi preferiti di One Piece.